Buonasera cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con la tavola contraddizione con il cuoco d'oltrepio Danilo Lembrini in collegamento da Ristorante della Pinetta di Fortunago con un palloncino che annuncia il fantastico tema di questa sera guardate un po' che palloncino ci ha appena gonfiato la notte romantica nei borghi più belli d'Italia Danilo ben ritrovato eh e grazie di questa sorpresa che ci hai fatto perché molti conoscono Fortunago inoltre Popavese come uno dei borghi più belli d'Italia proprio in virtù di questa iniziativa la notte romantica cosa bolle in pentola e e e quando quando è l'appuntamento quest'anno? Ciao Emanuele un grande saluto a te e a tutti i nostri amici di Bavia 1 TV eh allora mh come tutti gli anni l'ultima eh allora il primo sabato che va a generare che si va a generare ehm il primo sabato d'estate diciamo il primo sabato di giugno eh verso la fine di giugno andiamo a creare la notte romantica andiamo intendo io cuoco ristoratore di uno dei ristoranti nei borghi più belli d'Italia Fortunago sai che è stato uno dei comuni fondatori di questa meravigliosa associazione che è nata ormai nel se non sbaglio nel 2001 eh conta quasi una ventina d'anni di di esperienza eh all'inizio erano meno di cento poi è avuto periodi di euforia in cui si era stato così insegnato anche altri comuni come come Fortunago come Castellaro Ragusello ma adesso non farmi raccontare perché sono sono diventati quasi 300 dopodiché c'è una cerchia ristretta e c'è un tutti gli anni i comuni dei borghi più belli d'Italia hanno alcune visite in diversi periodi dell'anno per poter vedere se la caratteristica di eh innanzitutto sintonia con il territorio attenzione con l'ambiente attenzione ai colori storici di quello che erano i paesaggi e i borghi italiani se se vengono mantenuti queste caratteristiche c'è questa sorta di di diciamo di cerchia che deve eh riconoscere rivedere nei borghi più belli d'Italia eh coloro che possono essere insigniti di questo di questo così non so se vuole essere un traguardo un premio o banalmente per a me piace raccontarlo come un'abitudine perché Fortunago il nostro sindaco Piero Achille Lanfranchi ha iniziato con l'attenzione al territorio già dall'anno in cui è stato eletto sindaco nel 1975 e da loro non ha mai abbandonato diciamo l'attenzione l'attenzione maniacale tu pensi che adesso quest'anno si parla tanto di lavanda negli ultimi due o tre anni si parla di lavanda lui ha piantato i primi le primi piante di lavanda nel 1980 tra l'80 e l'85 noi avevamo già i campi di lavanda però per ora non erano ancora riconosciuti come attrazione quarentuna quarantuno anni fa lo so bene perché sono un ragazzo dell'ottanta ma volevo guardare questa locandina bellissima questa è una locandina nazionale che campeggia anche sul sito dei borghi più belli d'Italia la notte romantica dei borghi più belli d'Italia sabato 26 giugno quindi manca pochissimo questo è veramente un po' il conto alla rovescia allora a proposito è la sesta edizione di questa bella iniziativa e vedete che quest'anno il tema è proprio legato all'arte perché vedete proprio sul sito dei borghi più belli d'Italia speciale amore per l'arte e naturalmente ecco poi è possibile andare anche a scoprire questi borghi che sono un modo per scoprire visto il tema della nostra trasmissione anche la tradizione a tavola perché poi in questi piccoli borghi è tutto storico è tutto meraviglioso è tutto racconta assolutamente sì nel borgo di Fortunago ci sono diverse offerte ci sono state diverse offerte e piuttosto eterogenea anche per quello che riguarda la notte romantica abbiamo avuto delle degustazioni di carne delle degustazioni di carne delle degustazioni di salumi noi ovviamente abbiamo creato anche quest'anno un menù ad hoc che è un menù permettimi di dirlo non mi va di svelarlo allo stesso tempo mi va a dire il menù proprio il classico menù pensato per la coppietta che inizia con un aperitivo con un calice di rosè con un calice di pino nero vinificato rosato quindi abbastanza semplice piacevole piuttosto beverino per poi sfociare in vini diciamo così più strutturati più importanti sempre legati ai canoni di quello che sono il nostro territorio e il nostro meravigliosa la nostra meravigliosa offerta che abbiamo da dare sia come ovviamente personalmente come ristorante pinetta ma soprattutto come oltre a papavese dopodiché ci siamo concessi alcun vezzo eh i puristi della tradizione mi concederanno una una piccola aggiunta ho voluto aggiungere qualcosa di eh frizzantino piacevole e se mi permette il termine anche un pochino di afrodisiaco anche perché domani sera ci saranno tante tante coppie abbiamo aggiunto qualcosa che arriva dal mare quindi con una rivisitazione oltre padana dell'oltre papavese ma qualcosa che arriva dal mare ma non mi va di parlare di di piatti questa sera chiedo venia però eh faremo eh dei ravioli inizieremo con un con un affettato legato al nostro territorio proseguiremo con questo piatto di mare che è una sorta di carpaccio di un pesce cane una di un derivato del pesce cane che è un pesce marlin che viene pescato comunque eh nel mar Mediterraneo viene rielaborato leggermente affumicato e rivisto da me con una piccola vina vinaigrette o meglio citronet perché è una salsa a base di limone e di olio evo e di olio evo della mh dell'Alta Italia mettiamolo così e poi c'è questa rivisitazione che è servito con della misticanza per misticanza intendiamo questo mix di di erbe più o meno spontanee più o meno del territorio scusa no più o meno più o meno spontanee più o meno eh semplici da trovare se vogliamo abbiamo dal tarassaco piuttosto che allo spinacino giovane qualche fogliettina di rucola che serviamo un po' tutto un ensemble che va a creare questo antipasto or d'oeuvre antipastino se vogliamo piccolo entrè di mare dopodiché proseguiamo con quello che è la nostra tradizione e andiamo a sposare addirittura con il prodotto diciamo estivo dal punto di vista della frutta per eccellenza sono arrivate le prime pesche inoltrepo le prime pesche noci che sai sono preponderanti e precoci in questa primavera un simbolo sono anche un simbolo del nostro oltrepo e del vicino Piemonte con le note pesche di volpedo ovviamente noi essendo territorio di quattro province quattro regioni abbiamo anche delle vocazioni comuni da portare in tavola e allora ho voluto eh così anche qui trascendere da quello che è la tradizione o meglio sposare un un nuovo folclore e quello di abbinare la pesca con il filetto di maiale quindi sposiamo due prodotti del territorio che in realtà non sono mai stati accostati cerchiamo di farlo cercando di scaloppare questo questo filetto ovvio che ci sono delle dei piccoli accorgimenti essendo nel 2021 anche noi siamo attenti a quello che è l'attenzione al piatto alle nuove cotture quindi facciamo una piccola percentuale di cottura scaloppato in padella dopodiché viene servito e la filtra cottura a bassa temperatura in forno e viene servito con questa pesca noce che rimane piuttosto croccante mi viene da dire quasi cruda anche se passami il termine ovviamente la pesca noce come tutti i frutti possono essere consumati crudi ma servito leggermente tiepido posso dirlo leggermente tiepido nel senso fa molto caldo è una cosa che andrebbe servita se vuoi totalmente fredda ma sono saltate in padella per qualche secondo lasciato somatizzare sul piatto e lasciare che il matrimonio tra il filettino e la pesca noce leggermente saltate in padella faccia il loro dovere secondo me può essere una cosa molto molto piacevole ovvio che andremo ad aggiungere qualche qualche spezia che vada ad enfatizzare attenzione non a coprire perché le spezie gli aromi vanno semplicemente abbinati senza andare a troppo caratterizzare senza andare a rovinare quello che è l'essenza del piatto quindi aggiungeremo del pepe bianco qualche nota di anice stellato anche se l'anice stellato sarebbe in realtà un prodotto soprattutto autunale soprattutto invernale se vogliamo legato alle carni legato alle lunghe cotture stracotti brasati eccetera eccetera con la pesca mi sembra che possa essere un ottimo matrimonio con la pesca leggermente acidula quindi non del tutto matura perché poi per essere stato adibattato se fosse troppo matura creerebbe dei problemi e si andrebbe a sfaldare rovinando non l'aspetto del gusto ma l'aspetto visivo del piatto e quindi ci concediamo questo piccolo vezzo vuole essere un tentativo ho visto che abbiamo avuto un sacco di richieste per quello che è questa notte romantica e dopo di che sai Emanuele domani gioca l'Italia quindi dobbiamo santificare le feste come da comandamento e quindi cercheremo di seguire con un occhio attento tutti i palloncini e tutti gli eventi che ci sono in giro per il borgo ti assicuro che sono veramente tanti ci sono diversi punti dove si può godere tra poca luce perché purtroppo e per fortuna sono spente quasi tutte le luci solo sono accese solo le luci da passeggio e poi sono aggiunti per tutto il borgo solo delle luci di candela che vanno a guardate io vi dico questo vi dico questo ci sono tanti luoghi molto belli in oltrepo pavese tutti da scoprire così come ce ne sono in lomellina nel pavese eccetera però l'oltrepo con queste colline poi il appennino insomma scorci meravigliosi regala però fortunago vista vista proprio in occasione della notte romantica quindi domani io vi invito ad andarci perché nazionale o no insomma si vive di più di quelle emozioni lì con i lumini con queste questa vista meravigliosa immersi comunque nel verde è veramente molto molto bello ed è suggestivo sempre trovarsi a fortunago però in occasione della notte romantica anche un po di più danilo cioè infatti c'è stato negli anni un enorme passaparola che di fatto ha costretto fortunago a continuare a far crescere la notte romantica perché chi è passato si è non solo innamorato ma si è anche innamorato di fortunago beh guarda l'amore in generale che deve essere il life motive della serata se vuoi no l'attenzione per l'ambiente e l'attenzione per la bellezza perché la notte romantica è sempre stata legata a qualcosa di bello quest'anno ancora di più si aggiunge attenzione all'arte e e quindi per le vie del borgo o comunque per la via centrale per le vie del borgo si potrà vedere si potrà visitare qualcosa di molto particolare non lasciarmi svelare dei segreti che non posso perché devono essere delle sorprese di sicuro ormai il cellulare o lo smartphone dotato di camera per poter fare delle fotografie penso che ciascuno di noi sia munito se venite a visitare Fortunago venite a visitarlo con lo smartphone pronto a fare fotografie perché ci sono diversi scorci e attenzione potrebbero anche essere fonte di ispirazione per professionisti che vengono più o meno saltuariamente adesso mi viene quasi da dire con una certa regolarità a portare delle modelle Fortunago sia all'interno del nostro nuovo auditorium e sia per le vie del borgo perché ci sono degli scorci molto particolari ricordiamo che Fortunago è anche metà di richiamo ad esempio di sposi di matrimoni sia per venire a celebrare le nozze nel borgo piuttosto che per celebrare in alcune alcune attività non solo ovviamente il nostro ristorante in alcune attività ancora più blasonate di quello che sono l'attenzione legata al wedding quindi al matrimonio eccetera eccetera ma è anche location per evento fotografico quindi sia l'auditorium all'interno e all'esterno può essere dotato e può essere rivestito a location semplicemente per degli scatti non non ultimo ricordiamo che ci sono almeno dieci case automobilistiche che hanno già scelto sia in passato e soprattutto in futuro di venire a presentare le proprie automobili a Fortunago e ricordo tra questi marchi non so se parliamo di pubblicità o meno tanto stiamo parlando comunque di una tv diciamo così caselinga casareccia e dei nostri come così mi viene da dire parliamo di marchi come Aston Martin piuttosto che la Lancia piuttosto che la BMW la Renault parliamo di marchi di un certo tenore di un certo livello che scelgono Fortunago o alcuni scorsi di Fortunago anche la Hyundai per poter presentare le proprie vetture guarda addirittura c'era un sito internet dove presentava una delle fotografie di una macchina e qui non non svelo quale fosse in cui presentava il centro di New York il centro di Shanghai e una vista di Fortunago del borgo di Fortunago con dietro con in prima vista l'automobile quindi per noi è anche motivo d'orgoglio sai Manuele noi siamo siamo nati qui cerchiamo di vivere cerchiamo di portare avanti la la teoria e la fantasia e la follia dei nostri genitori e insieme al gusto abbiniamo che questo profondo amore per il territorio e per quello che è il nostro Fortunago e il nostro oltre popolo è assolutamente necessario pensate queste case automobilistiche di prima grandezza a livello internazionale quanti quanti luoghi potrebbero scegliere scelgono proprio Fortunago e questo perché perché è anche rimasta una terra altamente incontaminata altamente all'antica se vogliamo ma all'antica in modo bello si è salvaguardato tutto e la genesi la nascita di Fortunago all'interno dei borghi più belli d'Italia si deve proprio a piani di recupero armonici con anche voglio dire delle regole che hanno fissato dei recuperi delle abitazioni preesistenti in una certa data maniera e quindi si è ottenuto un grande un grande colpo d'occhio un grande senso estetico e c'è grande bellezza a Fortunago da Fortunago si osserva la bellezza delle colline dell'oltrepo e però c'è qualcosa in più a Fortunago c'è proprio una cultura dell'accogliere una cultura del bello una modalità proprio di dare il benvenuto che lascia il segno e questo sicuramente piace anche ai grandi marchi delle case automobilistiche internazionali ma anche a chi deve presentare dei prodotti anzi lanciamo un appello guardate che l'oltrepo è grande no e ci sono scorci di tutti i tipi venite se dovete fare della fotografia se dovete fare delle riprese suggestive se dovete presentare dei prodotti venite perché sarete ben accolti in un paesaggio che qualcuno ha definito la Toscana a 40 minuti da Milano secondo me noi abbiamo degli scorci che rendono l'oltrepo ancora più distintivo rispetto alla Toscana che pure è bellissima ma l'oltrepo riesce a distinguersi perché da su ogni valle Valle Versa, Valle Coppa, Valle Staffora, Valle Scuro Passo eccetera 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 credo ecco di poter dire Valle Versa credo di poter dire che ci sono proprio dei piccoli mondi ogni vallata è un piccolo mondo la Valtidone anche lì la Valtidone non dimentichiamo che Romagnese per esempio è sulla Valtidone non dimentichiamo la bellezza di Zavattarello non dimentichiamo la bellezza del borgo medievale di Varsi ragazzi tanta varietà di scorci e di bellezze e di storia come offre l'oltrepo è difficile trovare trovarli in pochi su un territorio così piccolo perché poi alla fine sembra sembra gigantesco ma non lo è e quindi in Italia l'oltrepo ha degli elementi sicuramente di unicità io sono stato recentemente a moderare una presentazione a Milano su oltrepo Pavese 100 meraviglie più una libro meraviglioso fotografico ma molto evocativo di Raffaella Costa e Marcella Milani che vi invito a comprare e regalarvi ecco li vedete 100 più uno 100 più uno e già si è dovuto fare una sintesi 100 più una meraviglia e beh ragazzi e questa è l'economia del futuro secondo me Danilo e domani la notte romantica a Fortunago ci ricorderà senz'altro questo siamo in conclusione e vorrei che lanciassi insomma un invito a godere della notte romantica ma poi anche a godere dell'estate inoltrepo e a trascorrere un'estate a tavola con la tradizione beh noi saremo siamo sempre stati saremo sempre i paladini della tradizione e attenzione del gusto devo dobbiamo tornare a reimparare quello che è il gusto e l'attenzione per quello che è la cucina genuina e la cucina gastronomica perché attenzione la cucina del territorio del tripopovese deriva dalla gastronomia non deriva dalla dall'attenzione estetica e quindi noi siamo paladini di questo di quello che vuole essere una rifondazione se vuoi nuova ma sempre e eh legatamente legata a quello che è la tradizione della tipicità e dell'attenzione ai prodotti e dell'utilizzo di prodotti oltre padani lombardi delle nostre quattro province quattro regioni limitrope italiane in in generale eh vi aspettiamo perché la notte romantica può essere un punto di partenza e qui mi viene di spezzare una lancia e di ringraziare perché in questo periodo abbiamo avuto tanto lavoro abbiamo avuto tante visite e ho tanti pellegrini passeggiatori o ho tanta voglia di riscoperta di quello che è il nostro territorio io vi ringrazio sempre nell'attenzione e nel rispetto di quello che sono le norme stiamo finalmente uscendo da un periodo che è durato un anno e mezzo veramente grigio veramente così segnante ma mi sembra che ci sia tanta voglia di ritorno alla normalità e per questo mi viene mi vado a ringraziare anche le persone che eh stanno avendo tanta pazienza allo stesso tempo ci tengono in considerazione e hanno voglia del turismo di prossimità e della logica della rinascita delle nostre colline grazie a tutti e vi aspettiamo se venite nel borgo più in uno dei borghi più belli d'Italia che è fortunato domani sera ne rimarrete piacere piacevolmente soddisfatti e sorpresi e viva e viva la notte romantica e scoprite la bellezza a due passi da noi la provincia di pavia la conoscete secondo me no ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti